Entro martedì 16 ottobre sarà pronta la delibera dell'Aggiunta regionale della Campania per lo stanziamento della prima tranche delle risorse destinate al settore della forestazione in Campania per un valore di 20 milioni di euro, in favore delle comunità montane, consentendo così il pagamento degli stipendi ai lavoratori forestali. È questo uno dei risultati ottenuti nel corso dell'incontro avvenuto tra il presidente di Uncem Campania, Vincenzo Luciano, i segretari regionali di FAI, CISL, FLAI, CGL e Willa Will, Raffaele Tancredi, Giuseppe Carotenuto ed Emilio Saggese, con il consigliere delegato all'Agricoltura del presidente della regione Campania, Avvocato Franco Alfieri. Una seconda tranche di ulteriori 20 milioni di euro come anticipo delle risorse per l'anno 2018 verrà liberata entro il mese di dicembre. Infine, il 25 ottobre prossimo è convocato il tavolo del partenariato nel quale verranno esaminate alcune richieste degli enti delegati e verrà fatto un approfondimento sulle stabilizzazioni degli operai forestali e la definizione delle politiche occupazionali.